Ciao Davide, benvenuto in questo ultimo video, poi c'è la gratte, la sfede che la porta a moticità fine qua così, non so cosa sta facendo qua, qua c'è là, e la sfondo, tipo quando ho messi della scale, ci sfondo, qua là, adesso te le faccio vedere, ecco la, esercizi, esercizi, quale dire ho tutto, allora questo qua, qua c'è la, in città ma c'è una, la garden, la, la, la giardino per il costruire la nostra passione, ce la credo che una delle famiglie, è qua, questo video, no, ah casino che si è rotto, c'è la blu tech, abbiamo questo qua, qua, faccio vedere le descrizze delle, queste, le, c'è una, questo, la video qua, ce la, la nostra vita che è una che c'è, qua, guarda là, visto, visto ragazzi, visto ragazzi, guarda, qua, una delle sedie per una delle estate, si uniliscono, rivediamo, magica, magia, una, aspetta che vi faccio vedere, l'esercizio, si ci sta per una delle sedie, e vediamo, vediamo che si torta la, eccole qua, la mia grafica, c'è la, qua, c'è la, cattia, ok, inizia, adesso te la faccio vedere qua, la ditta si scale, ci fondo, la scale, c'è, la, sì, che è una, spagliate, qua c'è questo per una, una, questo, una tapille, wow, non male, siniscono il porto, qua ce l'ha, non sto qua, boom, 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 la polizia, qua, ce l'ha via niente, è porta, cioè la porta, quale aun sip, La La porta con le vestizie Dunque come ci sono Qui ce l'ha Inferiore Allora questo Perfetto Tic Qua la faccio vedere con quale Quale Non ci serve Vuoto Visto Aspetta che vi faccio vedere No questo via Vai vuoto C'è l'uomo Un'altra Perle Tocchini Allora questo è vecchio perché 1960 Anni che poco Delle mesi Questo si è rotto Visto Non ci serve adesso Qua No Vuoto Ma vuoto Visto Quo'